Salve a tutti, sono Matteo Fin di Control4, lavoro per Radio Group Distributore. Oggi siamo a Bologna al meeting di Control4 Italia, dove abbiamo messo insieme tutta la rete vendita dei dealer certificati Control4 in Italia e dove abbiamo presentato le novità più importanti che arrivano dal DISE di febbraio e le novità sia software che hardware anche qui per i dealer italiani. Abbiamo portato qui delle esposizioni di prodotti, i nuovi touchscreen che sono sicuramente le novità più importanti, i nuovi touchscreen basati su Android con nuove funzionalità SIP, l'integrazione verso la videocitofonia, verso il mondo dell'intervento com, che è la cosa sicuramente più interessante, nuovi prezzi, nuovi prodotti, nuove prestazioni e puntiamo molto da qui in avanti su questo tipo di soluzione. Abbiamo riproposto e posto l'attenzione nuovamente sui prodotti legati alla parte più magari del lighting e del comfort con i prodotti del panel lighting e nuove tastiere, altro settore che ci vedrà in campo nei prossimi mesi con nuovi eventi, nuove giornate formative legate a questo tipo di applicazioni e poi anche abbiamo parlato molto delle nuove matrici che provengono dall'acquisizione di Leaf che c'è stata sempre in occasione attorno all'Ise di quest'anno, attorno a febbraio. Leaf era un marchio che noi come Adeo teniamo monitorato già da molto tempo, infatti eravamo lì per portarlo qui in Italia e loro ci hanno preceduti e tra l'altro facilitandoci anche poi le cose, quindi ottimo colpo da parte di Control4 e abbiamo appena annunciato le nuove matrici 4K che sono sicuramente un prodotto molto avanzato, all'avanguardia, con delle soluzioni anche molto interessanti per quanto riguarda le matrici audio, nel senso che integrano sia l'audio che il video in maniera autonoma e indipendente, quindi in un unico dispositivo possiamo avere tantissime soluzioni diverse dentro a un unico impianto, quindi ancora di più ci faciliterà le cose. Prodotti che tra l'altro insieme, in accordo con Control4 vogliamo spingere anche a tutti gli installatori, non solamente quelli che ci conoscono ma anche quelli che usano altri sistemi di controllo, perché comunque Leaf prima era venuta a chiunque con ottimi risultati, quindi stiamo cercando di creare una sorta di listino parallelo a cui potrà attingere sia il certificato Control4 sia anche il certificato Preston o altri tipi di installatori, perché crediamo molto in questo tipo di prodotto. e anche i miei colleghi del professionale sicuramente lo andranno a spiare. Sì stiamo agendo diciamo su due fronti, sia quello commerciale, Control4 ha creato questa nuova figura che dà una mano a noi come distributori in Italia, che è proprio un referente commerciale che segue tutta il sud Europa, che mi affianca, che tra l'altro ha base in Italia perché vive a Pordenone, quindi mi dà una mano sul mercato italiano, dandomi anche tanti spunti che arrivano dai paesi vicini. E proprio oggi abbiamo annunciato anche una nuova figura invece dal punto di vista tecnico, che è attivo sul campo, segue anche lui il sud Europa, quindi un nuovo dipendente Control4 sul territorio, anche lui con base a Pordenone, quindi la presenza di Control4 sul territorio è sempre più importante, sia dal punto di vista commerciale che tecnico, quindi eventi come questi che danno sia degli spunti diciamo su nuovi prodotti, ma anche nuove anche prospettive di vendita, nuove soluzioni, nuove campagne anche promozionali, ma anche sull'altro fronte, sul punto di vista tecnico, nuovi incontri, nuovi appuntamenti di condivisione e di crescita dal punto di vista tecnico. L'idea è quella di almeno due eventi da qui per i prossimi mesi, ci piacerebbe uno prima dell'estate e uno dopo, legato al panelized lighting, quindi ai soluzioni di controllo, luci, automazioni, climatizzazione di Control4, e un altro evento invece legato alla distribuzione audio-video, quindi con le matrici in mano di Control4, vedere, capire anche insieme, approfondire il funzionamento, i vantaggi sui cantiere.